Il Movimento 5 Stelle plaude all'approvazione, da parte della Giunta Comunale dell'Aquila, della delibera di modifica ed integrazione del regolamento della partecipazione, così come proposta dal Comitato Promotore referendum del Gran Sasso. Con la modifica, la Giunta ha infatti eliminato un intoppo burocratico che non consentiva al Comitato dei Garanti di riunirsi per esprimersi sull'ammissibilità del referendum sul Gran Sasso. Ricordiamo che il Comitato Referendario chiede la rimodulazione dei confini del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga e dei SIC, i 14 siti di importanza comunitaria. Allo Stato dei fatti, sia il Parco sia i SIC sono ritenuti un ostacolo allo sviluppo turistico-economico del bacino montano del Gran Sasso d'Italia. La delibera approvata dalla Giunta passerà ora al vaglio della Commissione e poi sarà mandata in Consiglio Comunale. Laddove dovesse essere approvata, si riunirà il Comitato dei Garanti che valuterà l'ammissione di questi referendum. Gianluca Ragneri del Movimento 5 Stelle parla di una elezione di democrazia ed una rottura del silenzio da parte del Consiglio Comunale dell'Aquila ed una sonora vittoria da parte del Comitato Referendario del Gran Sasso. Ma la vittoria, secondo Ragneri, è anche di tutti i cittadini aquilani che non hanno potuto godere di questo strumento referendario fino ad oggi e grazie al Comitato Promotore del referendum sul Gran Sasso questo strumento ormai potrebbe essere a disposizione di tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.